Care soci e cari soci, per noi che siamo banche di credito cooperativo, parte di un nostro grande gruppo bancario. Per noi che vogliamo continuare a credere nei nostri valori di sempre. Per noi che partecipazione significa tanto. L'Assemblea è un giorno estremamente importante. Il momento in cui condividere i risultati del nostro lavoro e ragionare insieme del nostro futuro. E anche questa volta vogliamo garantire a tutti noi di poter vivere questo momento con la responsabilità, la fiducia reciproca, lo spirito di collaborazione che da sempre ci contraddistingue. Per noi la tua partecipazione è importante. Visita il sito della tua banca per informazioni sulle modalità di partecipazione. Grazie. Grazie.